La sezione comunale di Sulmona dell'Avis, associazione volontari italiani del sangue, ha lanciato un appello urgente per la donazione di sangue in vista della carenza di scorte ematiche nelle strutture sanitarie locali. La grave carenza di sangue, soprattutto di 0, B e A negativo, può essere combattuta con un'operazione semplice e sicura che può salvare la vita di tante persone. L'Avis comunale di Sulmona ha invitato tutti i cittadini donatori in regola con la tempistica a prenotare la propria donazione, chiamando il numero 0864 49 93 89 o il 349 16 65 562. Ha inoltre ricordato che per donare il sangue è necessario essere maggiorenni, pesare almeno 50 kg, essere in buone condizioni di salute, non aver assunto farmaci negli ultimi 24 ore, non aver fatto tatuaggio o piercing nei 4 mesi precedenti, non aver avuto rapporti sessuali a rischio nei 12 mesi precedenti, non aver viaggiato in zone endemiche per malaria nei 6 mesi precedenti. Donare il sangue è un atto di generosità e responsabilità sociale che contribuisce a migliorare la qualità della vita della comunità.